Ci siamo già interessati alla problematica dei rifiuti abbandonati nelle strade di Palmi e anche grazie al nostro piccolo contributo giornalistico abbiamo incentivato l'amministrazione ad intervenire con più vigore e con multe più salate per chi trasgredisce le regole e si comporta da incivile. Oltre un centinaio di contravvenzioni elevate ed altre telecamere pronte a essere immesse nei percorsi di videosorveglianza e la battaglia a tutto campo avviata da Palazzo San Nicolo, ossia il municipio di Palmi, contro tutti quei soggetti che non hanno ancora sposato nonostante sia partito ormai da tanti mesi la raccolta differenziata porta a porta, preferendo abbandonare i rifiuti prodotti nelle proprie abitazioni sia nelle strade del centro storico cittadino, sia nelle periferie e nelle vie di comunicazione che da Palmi conducono verso Gioia Tauro o la Tonnara. I controlli per la salvaguardia del territorio eseguiti dalla polizia locale stanno proseguendo e proprio nei giorni scorsi il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente per inalzare le multe per i trasgressori da 100 a 250 euro nel caso si vada in contra a sanzioni di carattere amministrativo. Altro discorso naturalmente si instaura se si dovesse incorrere in reati dal punto di vista penale. L'aumento delle multe dovrà essere ratificato nel prossimo Consiglio Comunale utile ma maggioranza e opposizione si sono dette già favorevoli. Intanto sono state avviate dall'amministrazione comunale le operazioni di pulizia straordinaria che dalle Pietre Nere conduce sino alla Contrada Scinae, la strada provinciale che da Palmi conduce sino alla Tonnara dove purtroppo in questi giorni diversi soggetti ignoti spesso hanno abbandonato i loro rifiuti. La pulizia del primo tratto di strada è stata effettuata dalla Acribos con il supporto del personale della Radi, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel territorio di Palmi mentre il tratto della provinciale è stato pulito dagli operatori della provincia sempre con il supporto della Radi. L'argomento legato alla raccolta dei rifiuti differenziata ha infiammato anche l'ultimo Consiglio Comunale che si è tenuto a Palazzo San Nicola la scorsa settimana con l'opposizione di centro-sinistra che ha pungolato gli amministratori ad intraprendere ulteriori e nuove decisioni per il miglioramento del servizio. Un primo passo che dovrebbe partire a giorni come annunciato tempo fa dall'assessore Pippo Calabrò che dovrebbe essere quello relativo all'apertura del punto di raccolta del rifiuto differenziato presso l'ex scuola della Tonnara di Palmi dove quando verrà conferito sarà poi trasferito direttamente ai punti di raccolta della Radi un modo per facilitare e incentivare la raccolta sul territorio.